...e unico campionato nazionale di Serie A. In mano, gli stagionisti hanno portato la nostra serie a come sempre in Portano, squadra campionato di Italia in carica e ancora a partita della Stadone, dove non trovo a fare venire alcuni pilastri fermi per i più duri. Ringraziando come sempre il pubblico del Paladere e il nostro spozzo, auguriamo a tutti un nuovo divertimento e precediamo la presentazione della squadra. E se spero, vedendo, numero 5 da Pirancio-Mitucà, numero 19 da Eterno di Sicilipe, numero 22 da Eterno di Hannes, numero 18 da Eterno di Francesco, numero 2 da Eterno di Alessio, numero 16 da Eterno di Sicilio, numero 4 da Riccardo Nicola, numero 3 da Sonner Martin, numero 14 da Scorsi-Cimario, numero 11, Streethead-Adeas, numero 23 da Cimero, numero 9, Wittgenstein-Adea, numero 1, Volare Pricimate, numero 8, Ryan Wilson, allenatore sotto a Cusina-Alessandro. Ma torniamo ad essere felicitati con la nostra squadra e presentiamo i ragazzi della Pala Manu Malo nel nostro futuro di questa esperanza figura con il numero 38 da Raffoldo Francesco, numero 55 da Cimero Andrea, numero 3 da Eterno di Gavide, numero 7 da Eterno di Anato, numero 12 da Rosario Riccardo, numero 6 da Cimero Giovanni, numero 19 da Cimero di Gavide, numero 5 da Italno di Picovii, numero 7 da Cristiano di Gavide, numero 8 da Cimero-Navide, numero 20 da Cimero-Navide, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. . . . Grazie a tutti. . 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